e amici telespettatori benvenuti allo stadio Buscherin di Forlì che ospita gara quattro delle Italian Softball Series la partita è iniziata con Brenda De Blyce imbattuta per la formazione del Bollate la vedete inquadrata in pedana di lancio per la squadra del Fiorini Forlì Leslie Maleric dopo le due vittorie ottenute dal Forlì a Bollate la scorsa settimana si è imposta in gara tre nettamente Bollate 7 a 0 qui a Forlì e per la squadra ospite non c'è domani ma inizia molto bene la squadra del Bollate con questa battuta da extra base di De Blyce che però vuole troppo cerca di andare in terza e viene eliminata errore clamoroso commesso qui sulle basi da De Blyce che aveva aperto la gara con un gran doppio ha cercato di trasformarlo in triplo ma ha trovato una gran difesa del Forlì guardate Zauli scavalcata dalla lunga battuta di De Blyce un po' aiutata dal rimbalzo ottimo tiro per lei ottimo tiro di Del Mastio e c'è netto l'out vedete di saporito su De Blyce quindi 9-4-5 per chi è interessato allo score e prima grosso casino perso dal Bollate velocemente la formazione della Sanotin De Blyce interbase l'abbiamo appena vista Degen all'esterno destro batte su Vitaliani che nonostante un'incertezza riesce a ottenere l'out poi Ardi che gioca a prima base Marazzi terza base Bortolomai il catcher mentre rivediamo il secondo out Zanardini l'esterno centro Rocchi l'esterno sinistro Panelli il designato Ungari il seconda base lancia Deborah Moretto alla battuta va appunto Kelly Ardi e il Forlì è schierato in difesa con i tre esterni da destra a sinistra Zauli Bedwell e Ray il terza base è saporito l'Inter base Stefania Vittagliani il seconda base è Del Mastio il prima base Michela Vittagliani il catcher Eva Travison e vedete in pedale di lancio Leslie Malerich l'Ital americana eroina del mondiale 2006 per l'Italia ecco l'è inquadrata con il numero 28 la poderosa lanciatrice del Forlì che manda a vuoto Ardi qui sulla palla bassa vedete inquadrata Kelly Ardi prima base stasera Ugo Rice che non trova la zona due eliminati inizio scoppiettante ma con un grosso errore nella corsa sulle basi per De Blyce vedete inquadrata Ardi giocatrice australiana di grande esperienza Malerich buon lancio questo sul filo esterno non regala niente a Malerich l'arbitro il primo piano di Kelly Ardi è con Leslie Malerich guarda la palla Ardi e guadagna la base ball prima base concessa da Malerich che porta nel box di battuta Valentina Marazzi che come Ardi in gara 3 ha ottenuto un fuoricampo certo sarebbe stato un inizio di partita veramente efficace da parte del Bollate se fosse riuscita a segnare subito la corsa di De Blyce verso la terza è stata assolutamente sconsiderata cariche lancia Malerich batte proprio su Malerich Valentina Marazzi l'assistenza in prima per l'out nessun punto al primo tentativo per la formazione del Bollate che ottiene una valida e lascia un corridore in base 0-0 il parziale Borretto vedete con il numero 10 Eva Trevisan grande protagonista per quel che riguarda le prime due partite come tutto il Forlì non ha certo disputato una gran partita in gara 3 anche se bisogna dire il Forlì in attacco almeno per quel che riguarda la produzione di Valide non ha deluso ha deluso a livello di produttività a livello di produzione di punti e soprattutto a livello di gioco difensivo Trevisan da parte sua una valida l'ha ottenuta giocato come sul solito in maniera molto buona in difesa ora mette a terra un bant Moretto l'assistenza a Ungari che va a coprire il cuscino di prima e c'è il primo eliminato di questo turno d'attacco numero 1 del Fiorini Forlì che presenta ora nel box di battuta Michela Vitaliani la prima base della formazione romagnola Forlì che ha cambiato leggermente l'ordine di battuta invertendo Ray e Stefania Vitaliani comunque Michela Vitaliani per ora nel box con un out e le basi vuote parecchi problemi ci sono stati segnalati e nel pre-partita per quel che riguarda la formazione del Bollate che ha avuto un paio di defezioni dell'ultima ora cambiando la formazione proprio a tempo di Recon Moretto Palla alta due bolli uno strike non ci assiste neanche tanto il tabellone segna punti sui bolli e gli strike in questa gara notturna e si gioca con una temperatura accettabile ma non certamente piacevole vedete mostra il bant Michela Vitaliani che batte ora in faul palla che si spegne dietro casa base abbiamo un discreto colpo d'occhio del pubblico che è ancora una volta molto numeroso anche se era più numerosa la presenza di persone alla terza partita a vuoto Michela Vitaliani strike out primo successo personale per Moretto e la battuta va Stefani Ray vedete è ottimo il suo rendimento in stagione e bisogna dire molto buono anche nelle prime due partite giocate a bollare strike il primo lancio dalla posizione frontale Deborah Moretto gira vuoto Ray che è abbastanza vulnerabile su questi rise Palla bassa Palla bassa Moretto a vuoto Ray strike out Moretto parte ingranando la quarta e due strike out su tre battitori affrontati nessun punto Forlì e 0-0 il punteggio dopo la prima ripresa secondo turno d'attacco per il Fiorino Forlì che si apre con Christine Bedwell all'esterno centro per il momento tre battitori hanno affrontato Moretto e ci sono stati tre out Bedwell il quarto battitore della line up del Fiorino primo lancio di Moretto tocca in foul Bedwell uno strike Moretto Palla strike l'arbitro Garigliano a casa base vedete palla sul filo qui Bedwell tocca duro attenzione la palla va e il Fiorino Forlì passa in vantaggio Gran fuori campo che picchia contro il tabellone segna punti esplode il pubblico di Forlì fra le prime a complimentarsi Leslie Maleric e vedete sentite anzi meglio il pubblico di Forlì particolarmente rumoroso qui vedete Moretto lascia la palla alta qui hanno cercato lo stesso lancio sul filo esterno questa volta è stato un po' meno sul filo guardate che la palla va a sbattere sulla parte centrale del tabellone segna punti gran performance veramente palla poi torna in campo ma naturalmente si tratta di un fuori campo 1-0 Forlì e alla battuta si porta Stefania Vitaliani ma il bollate qui si penta ancora di più dell'out di De Blyce in terza in apertura di partita si dice mai essere il primo out in terza base soprattutto aggiungo io al primo inning uno strike un ball su Stefania Vitaliani quinto battitore del line-up Fiorini palla alta qui certo una brutta botta morale per Moretto che aveva iniziata la grande e ha subito il poderoso fuori campo di Bedwell ecco Stefania Vitaliani interbase del Fiorini che batte una palla che si impenna corre Valentina Marazzi e in qualche modo riesce a ottenere l'out la palla gli era sfuggita dal guanto poi è riuscita comunque a catturarla guardate vedete che la palla sfugge dal guanto di Marazzi che però poi in qualche maniera la raccoglie prima che tocchi terra uno fuori e la battuta si porta Carlotta Zauli gran protagonista dell'eliminazione di De Blyce in terza il primo inning ha raccolto con grande prontezza la battuta che l'aveva scavalcata e ha rispedito un tiro precisissimo al taglio batte Carlotta Zauli palla frontale per il seconda base Ungari l'assistenza per Hardin prima secondo fuori e alla battuta si porta Saporito è un vantaggio importante per il Forlì anche perché consente ora con assoluta tranquillità il Fiorini ogni volta che arrivi in base di cercare di costruire altri punti palla strike il primo lancio di Moretto che però tiene la palla molto alta questo non è detto che sia un vantaggio a lungo andare ecco Giulio Saporito Moretto batte Saporito palla che si impenna e finisce in foul ball dietro casa base due strike sulla terza base del Fiorini di Forlì batte Saporito Moretto ferma la palla in qualche modo arriva poi De Blyce ma è già salva Saporito sfugge anche la palla prima base Saporito ci pensa un paio di volte poi decide di non rischiare credo valida qui perché guardate la palla sfugge Moretto infatti il classificatore ha deciso valida poi De Blyce è molto veloce ma il suo tiro non è neanche buono c'è poca c'è poco spazio tra il cuscino o meglio i cuscini e la recinzione di conseguenza non è che quando la palla sfugge al prima base sia automatico l'avanzamento Sara Avanzi che gioca da designata giovanissima vedete è saporito un ball una serie di segnali da brusa coci di terza sappiamo che il Forlì ha esonerato l'allenatore italo-canadese Foti dopo la coppa campione che è stata una grossa delusione per le romagnole coppa vinta dal Legnano che poi il Forlì si è preso diciamo così a parziale rivincita la soddisfazione di eliminare dai play-off Scudetti Moretto in pedana Palla ball GDK Garigliano vedete col 32 Sara Avanzi e vedete in prima saporito Moretto in cassa strike questa volta 2 a 2 il conto su Sara Avanzi pronta Moretta il quinto lancio batte Avanzi la palla è insidiosa per l'esterno centro ma Avanzi raccoglie al volo Zanardini per il terzo out comunque si chiude con un punto segnato grazie al fuoricampo di Bedwell il secondo attacco del Fiorini Forlì che conduce ora 1 a 0 prima metà della terza ripresa alla battuta Barbara Ungheri l'unico battitore ancora non è sanato nel box per bollate il primo lancio su di lei è strike Ungheri seconda base di ruolo pronta il caricamento Maleric che centra l'angolo interno ha avuto un inizio un po' non dico preoccupante Leslie Maleric ma certo non sui suoi standard quando ha subito un gran doppio da De Blyce al primo inizio ecco Maleric palla boll alta due bolli uno strike vedete i segnali di Eva Trevis batte Ungheri palla in foul quindi abbiamo lo strike numero due Maleric in pedana pronta il caricamento prova con il cambio di velocità ma non inganna Ungheri e abbiamo il conto pieno sul seconda base del Sanotink bollato Ungheri in foul tocca dura la giovane seconda base del bollate Leslie Maleric altro cambio e Ungheri lo guarda e questo non è un bel segnale per Maleric che mette in base per ball seconda base per lei il primo battitore del bollate e oltretutto il bollate non va a cercare i lanci che vuole Maleric corridore in prima Brenda De Blaes primo lancio di Maleric palla ball e qui Maleric voleva lo strike si vede chiaramente la delusione nascosta dal suo sorriso Maleric secondo boll è naturale che in uno sport come il softball dove nel quale il battitore è certamente svantaggiato l'arbitro possa tendere ad avere una zona dello strike un po' più ridotta Maleric questa volta è strike mi sembra che Garigliano sia tendenzialmente più generoso nella zona alta dell'area dello strike cosa che ci può anche stare perché è una direttiva abbastanza precisa questa data agli arbitri sia di baseball che di softball che se c'è da considerare mezza pallina va data come vantaggio nella zona alta qui l'arbitro però dice boll Maleric vedete scalcia la terra è importante naturalmente che l'arbitro sia consistente nelle sue chiamate tanto abbiamo ricevuto un servizio bar d'eccezione Maleric base ball sono due basi ball consecutive attenzione perché qui potrebbe giocarsi buona parte dell'italian softball series due corridori in base zero out per bollate che sotto del punteggio è presente nel box Dana Degen infatti c'è la visita a Maleric che l'ho detto mi sembrava abbastanza nervosa a inizio gara non tanto sicura di sé come un po' tutto il forlì che evidentemente è sotto pressione anche se ha vinto alla grande a bollare esce brusa dialettica con l'arbitro e questo è un duello veramente importante Degen vedete i suoi terrificanti numeri batte subito la palla si impegna attenzione corre Zauli out questo è un out veramente importante ma i corridori avanzano e ora per Ardi ci sono due uomini due donne due corridori in posizione punto vediamo cosa decide Forlì quattro ball decide brusa quindi Ardi non avrà la possibilità di incidere su questa partita nel softball come molti di voi sanno la base intenzionale non viene lanciata ma comunicata in terza Ungari in seconda De Blais in prima Ardi alla battuta Valentina Marazzi alto momento topico della partita con Forlì in vantaggio 1 a 0 bollata tutti i cuscini occupati bolla il primo lancio di Maleric che ha già concesso due basi in questa ripresa deve assolutamente sfidare Valentina Marazzi e intanto il bollate decide di non lasciare Kelly Ardi a correre al posto dell'Australiana entra appunto una giocatrice più veloce che si piazza in prima nel softball come abbiamo già detto è possibile il rientro Sara Cecchetti a correre al posto di Kelly Ardi quindi Ardi non è uscita definitivamente dalla partita il prossimo inning sarà di nuovo a difesa della prima base Cecchetti solo a correre strike questa palla lenta di Maleric molto rischiosa rivediamo un cambio di velocità molto molto rischioso 1-1 su Marazzi Maleric va a vuoto Valentina Marazzi era una palla bassa esce Luigi Soldi però credo che non ci siano tanti dubbi guardate non è non è possibile sostenere qui che Marazzi non avesse l'intenzione di colpire la palla vedete Ungari che è il corridore più vicino al punto in terza De Blais in seconda Sara Cecchetti in prima va a vuoto Valentina Marazzi strike out il primo della partita di Maleric anzi il secondo della partita di Maleric e ora è Bortolomai a presentarsi nel box con tutte le basi occupate quindi con gioco obbligato sui tre cuscini e sul piatto di casa base Valeria Bortolomai momento importantissimo della quarta gara di finale bolle il primo lancio su Bortolomai la regia induge ancora su Ungari che è la giocatrice più vicina al punto Maleric a vuoto Bortolomai Maleric sta usando poco la sua palla veloce ma contro i giocatori diciamo meno esperti questo è certamente un lancio che le può dare soddisfazioni 1-1 Maleric palla interna bollo Bortolomai ha la seconda apparizione ha il primo ha la sua prima presenza nella seconda ripresa salva per errore Maleric gira vuoto Bortolomai Trevis lo vedete intimidisce il corridore in terza non vuole che Ungari prenda troppo vantaggio qui vedete Maleric spara interno e vedete che Bortolomai fa fatica ad arrivare sulla palla veloce di Maleric 2 bolle 2 strike quinto lancio il cambio palla foul palla foul incredibile palla che avrebbe svuotato le basi ha chiamato foul dal mio punto di vista l'arbitro garigliano non ho avuto una buona visuale prova ancora con un cambio di velocità contro un battitore che ha dimostrato di non arrivare sulla sua dritta no foul nettamente non c'è discussione ci sono 50 cm però non capisco tanto la strategia della batteria del 4 liquid un cambio di velocità ha rischiato di essere punito duramente Maleric in ritardo vedete sulla dritta Bortolomai comunque riesce a rimanere lì palla interna vedete la colpisce col manico Valeria Bortolomai quindi certo non uno swing efficace su quel tipo di lancio Valeria Bortolomai buon turno alla battuta comunque per il catcher del bollato in ogni caso sempre le basi piene in prima hard in prima Sara Cecchetti in seconda De Vlais in terza Ungari Maleric batte Bortolomai Stefania Vitaliani l'assistenza in prima nonostante la coraggiosa scivolata di Bortolomai si chiude senza punti il terzo attacco del bollato che lascia tre corridori in base e non si può negare che qui il Forlì faccia un bel passo avanti verso la vittoria 1-0 Fiorini dopo la prima metà del terzo quinto inning di gara 4 dell'Italian Softball Series alla battuta per la formazione del sano tinte bollate che ha un punto da recuperare Brenda De Vlais con il conto di due ball uno strike Maleric in pedana palla ball De Vlais doppio alla prima ripresa e poi una base ball al terzo ecco la inquadrata la giocatrice belga quarto lancio quarto lancio e alla battuta si presenta per bollate Dana Degen altro momento topico di una gara che vede il Forlì in vantaggio solamente 1-0 e una Maleric in pedana certo non invulnerabile altro momento chiave della serata travisan che va verso la pedana di lancio evidentemente non c'è tanta intesa sui lanci tra le due compagne Maleric palla bassa sta facendo decisamente fatica a centrare l'area dello strike con i suoi lanci Leslie Maleric Degen in questa partita due volte eliminato una dall'interbase una al volo dell'esterno destro qui palla centrale per lo strike 1-1 su Dana Degen in prima De Blyce è un giocatore che può anche cercare di rubare la seconda Prova il Bant non è successo Degen anche il Bant chiesto a Degen in questa situazione quantomeno mi insospettisce ecco non è per giocare la partita al posto dell'allenatore ma non è una scelta che mi trovi particolarmente con corde palla bassa sta cercando di tenere la palla molto bassa contro Degen Maleric due bolle due strike Maleric in posizione frontale vedete con il numero 15 De Blyce alza questo pop ma in zona di foul Degen palla non in gioco vedete con il numero 28 Leslie Maleric in pedano in un altro momento difficile della serata non c'è stato un inning in filore in cui Maleric non abbia messo almeno un corridore in base gira vuoto Degen strike out veramente molto pesante una delle poche volte in cui il rise di Maleric ha ingannato il battitore guardate questo è un gran lancio veramente ai limiti dell'area dello strike perfetto diciamo che il rise era il lancio da out della versione del softball prima che la pedana fosse allontanata e adesso lo è molto meno però questo è stato un rise perfetto meno di questo certamente che Kelly Hardy lascia passare per il ball Kelly Hardy in questa partita due volte in base la seconda intenzionalmente spara una pallinata che finisce oltre il catcher qui Maleric lancio pazzo e intanto avanza De Blyse questo mi pare di poter dire che potrebbe essere il presupposto per la base intenzionale a Hardy intanto Travis è andato in pedana a dire a Maleric gesti chiarissimi stai calma non è la miglior Maleric questo è poco ma sicuro e non è nemmeno la Maleric più tranquilla e io penso che a questo punto sia opportuno concedere quattro bolle a Hardy e infatti così la pensa anche il manager del Forlì Hardy in prima De Blyse in seconda Valentina Marazzi con un eliminato e in una situazione certamente abbastanza importante ancora una volta ecco la Marazzi autrice di un fuoricampo in gara tre a zero su due invece in questa gara quattro eliminata dal lanciatore al primo inning al piatto al terzo Maleric insiste con questi rise che non hanno successo Maleric ball 1 a 0 altro momento difficile della partita del Forlì Maleric altro bollo due bollo a zero vedete Brenda De Blyse che è in seconda vedete in battuta Valentina Marazzi il terzo lancio di Maleric a vuoto Marazzi uno strike due bollo vedete qui Maleric con la palla d'effetto nettamente ingannata Marazzi e si sta preparando Filipput che ha già lanciato le due riprese finali di gara tre Maleric il bante di Marazzi c'è gioco solo in prima e c'è il secondo out una specie non so se lo posso azzardare di bante e corri per la formazione del bollate che è riuscito a spostare i corridori ma è arrivato il secondo out in terza De Blais in seconda Ardi è una situazione però questa in cui chiaramente un lancio pazzo vale il pareggio per bollate quindi situazione ancora di pressione per Maleric in pedana la battuta Valeria Bortolomai che stasera 0 su 2 salva per errore al secondo inning eliminata dall'Inter base al terzo in un'altra situazione molto importante di corridori di situazioni di basi piene Maleric gira vuoto Bortolomai uno strike esplode letteralmente a ogni lancio il pubblico di Forlì c'è un settore di qualche decina di tifosi intorno al dugout della squadra di casa particolarmente rumorosa intanto abbiamo visto De Blais a fianco dell'arbitro Magnani richiesta di timeout da parte del battitore Valeria Bortolomai ecco De Blais Maleric gira vuoto ancora Bortolomai nettamente in ritardo qui ecco la Valeria Bortolomai catcher del sano tinta bollata Maleric accenna solo lo swing Bortolomai non viene chiesto il giudizio allora Brusa il manager del forriffa segno chiede giudizi ma viene ignorato dal suo catcher e dall'arbitro due ball due strike vedete De Blais Maleric osserva i segnali di Trevisan eccola col numero 28 Maleric ha vuoto Bortolomai strike out importantissimo qui per Maleric che se è complicata la vita ancora con una base bolle un lancio pazzo ma poi ha messo al piatto Degen e Bortolomai uscendo senza danni anche al quinto inning e resta in vantaggio il Forlì 1 a 0 vedete il lancio rise di Maleric che vale lo strike out su Bortolomai seconda metà della quinta ripresa la battuta il designato del Fiorini Forlì Sara avanzi Forlì ancora ferma tre valide il fuoricampo il singolo di Bedwell e il singolo di Saporito e pensate che tra i valide ha ottenuto anche il Bollate che però ha ben otto rimasti in base sulle quattro basi ball più due basi intenzionali di Maleric finora una prova veramente notevole di Deborah Moretto in pedana di lancio per Bollate ecco il numero 10 del Sanotin che centra l'area interna per lo strike Moretto che ha anche vissuto una stagione negli Stati Uniti a livello di college palla alta tre bulli uno strike Moretto quarto bull su avanzi prima base per Boll concessa da Moretto all'attacco del Forlì e alla battuta si porta Sabrina Del Mastio col vantaggio di 1 a 0 del Forlì è logico pensare che qui il Fiorini giochi per portare a casa il punto quindi giochi con il Bunt del Mastio eccolo il Bunt ma in foul uno strike vedete Degen che si incarica di andare a restituire la palla al pitcher Dana Degen che è un catcher di grande esperienza ma viene utilizzato oggi in prima base con la giovane Bortolomai dietro il piatto vedete Del Mastio che mostra ancora il Bunt qui però lo ritira cerca lo sledge e c'è l'eliminazione al volo in zona di foul da parte di Degen uno fuori comoda l'eliminazione per Degen e alla battuta si porta Eva Trevisan sempre sul cuscino di prima avanzi Bolo il primo lancio di Moretto avanzi altra giocatrice molto giovane della zona del Frivuli Venezia Giulia così come Filipput Moretto palinterna è normale che Moretto a questo punto della serata possa anche accusare un po' di stanchezza Moretto palla centrale per lo strike due a uno il conto su Eva Trevisan Moretto Moretto Palla interna per il terzo ball situazione teoricamente molto propizia per una eventuale giocata di batti e corri vediamo vediamo se mette in moto avanzi la formazione della Forlì c'è strike sul filo interno conto pieno quindi Forlì in due partite non l'abbiamo mai visto sfidare Bortolomai palla sul filo buon lancio e secondo me buona chiamata anche dell'arbitro ora c'è conto pieno perlomeno dovrebbe cercare di stare lontana dalle possibilità di doppio gioco la formazione del Forlì ora mettendo in movimento avanzi caricamento di Moretto palla che sfugge al catcher ma non potrà andare oltre la seconda il quarto ball due basi ball di Moretto in seconda avanzi in prima Trevisan la battuta Michele Avitaliani in questa partita zero su due per Michele Avitaliani mostra il bant lo ritira su una falla strike richiama il coach di terza del Forlì Michele Avitaliani per una un breve esame della situazione e l'arbitro va a chiedergli di non farlo più vedete Avanzi sul cuscino di seconda pronta a partire la battuta valida di Michele Avitaliani Avanzi viene fermata tutte le basi piene ora singola a sinistra e Forlì ha veramente l'occasione per chiudere i conti qui Moretto è abbastanza in difficoltà può darsi che Ray non venga affrontata da Moretto c'è Luigi Soldi in pedana buona difesa comunque di Rocchi ancora una volta dopo la visita di Luigi Soldi riprende il gioco con Stefani Ray in battuta Avanzi in terza Trevision in seconda Michele Avitaliani in prima basso il pregonante on ball Forlì che conduce 1-0 ha davvero la grossa occasione per allungare in questa partita Valentina Marazzi il difensore di terza base dietro di lei Avanzi vedete sulla parte bassa sinistra dello schermo anche Eva Trevisan secondo ball anche la base ball vale il punto e porta con un solo out Bedwell in battuta quindi non ha fretta certamente Stefani Ray per girare la mazza Moretto il momento più difficile della partita per lei terzo lancio strike con due ball Moretto la battuta in foul di Ray per il secondo strike questo è un out importantissimo per Deborah Moretto addirittura con tutte le basi occupate una palla battuta in diamante potrebbe anche chiudere l'inning una palla agli esterni o una base ball valgono viceversa il secondo punto Moretto batterei foul ball una palla ben colpita ma in foul classico caso in cui non è riuscita a tenere la palla in territorio buono Ray pur arrivando bene con lo sulido diciamo sempre che la battuta è una questione di equilibrio di tempismo in questo caso il tempismo non è stato perfetto tutto da rifare due bolle due strike su Ray Moretto dice no un segnale poi è pronta basso il lancio abbiamo il terzo bollo conto pieno su Stefani Ray qui non c'è nulla da fare è un lancio decisivo se Ray arriva a salva è un punto se Ray viene e mette la palla in gioco è possibile che ne esca un doppio gioco Moretto batterei la palla all'esterno sinistro Rocchi non ci arriva e qui probabilmente si chiude il campionato 2008 due punti e arriva il terzo anche a casa e Stefani Ray che era stata grande protagonista della delle prime due vittorie del Fiorini Forlì direi che veleggia anche verso il titolo di MVP della serie triplo e tutti i corridori arrivano a casa 4 a 0 ora per il Fiorini palla molto lunga Rocchi non ci arriva e probabilmente il campionato di softball 2008 finisce qua triplo per Stefani Ray all'esterno sinistro segnano avanzi Trevisan e Michela Vitaliani tre punti battuti a casa per Stefani Ray e ora la battuta sul 4 a 0 per Forlì si porta Cristin Bedwell e vedete Luigi Soldi non pochi rammarichi per il bollate anche quest'ultima giocata non era certo una palla facile ma era sicuramente una palla prendibile fosse riuscita a raccoglierla al volo Rocchi ci sarebbe stato sicuramente il punto del 2 a 0 ma la situazione sarebbe stata ben diversa Morretto un bollo e uno strike su Bedwell intanto palla bassa buon blocco qui di Valeria Bortolomai il caricamento di Deborah Morretto batte Bedwell palla lunga ci arriva questa volta Rocchi ma è una volata di sacrificio segna il quinto punto Stefani Ray per il Forlì Bedwell anche giocatrice importante in questa gara con la sintesi siamo al sesto attacco del Forlì che ha in terza Zauli autrice di un doppio e in seconda Saporito e Avanzi che batte valido e spinge a casa altri due punti per il Fiorini doppio di Sara Avanzi e ora il punteggio è 7 a 0 per la formazione del Fiorini e la partita termina perché con 7 punti di divario alla sesta ripresa il regolamento del softball sancisce la fine della partita quindi sul doppio di Sara Avanzi si chiude il campionato 2008 di softball vittoria che per dire la verità è forse meno ampia di quanto non dica il punteggio finale e soprattutto punizione decisamente pesante per un Bollate che aveva ben resistito fino a quando il Fiorini è riuscito ad ampliare il punteggio alla quinta ripresa Bollate che per la seconda volta consecutiva perde la finale Scudetto e Fiorini Forlì che iscrive nuovamente il suo nome sull'albo d'oro del campionato italiano con queste scene di esultanza del Fiorini Forlì ribadiamo il finale di gara 4 dell'Italian Softball Series Fiorini batte Sanocunt Bollate 7 a 0 alla sesta ripresa grazie per essere stati con noi e a tutti buonanotte grazie 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 grazie